Sì, a figarazzi, ora è da 20 anni che mi è niente, perciò, chi è la mia figlia? Ah, sta ascoltando la scommetta a te, ora mi manda un messaggio, Ciao, ciao, mi sto facendo piacere, ogni tanto, quando viene il passare, magari te lo senti, tu puoi soffrire, se c'è la mia figlia. Vabbè, qua c'è il mio figlio, sto vedendo il mio figlio, vieni, vieni, ce l'ho pesendo. Questo signore è un mio collega della provincia, si è andato in pensione nel 97, perciò aveva 25 anni che si è andato in pensione. E ogni tanto... Ne vediamo qua nella casa, c'è il postizio, io dovevo andare a casa, mi lasciavo a casa, furriamo, mi dicevo, ma ero una famiglia. Ah, 91 anni! Mi porta bene, è sempre più giovane, no? Tutti i campi, per 92 anni. Ma come fai? E io gli dicevo, c'è se non ho un uomo, un uomo, un uomo, un uomo.